Vicenza via San Martino. Sono le due di notte quando un cittadino chiama il 112 e segnala tre giovani che si aggirano in modo sospetto vicino alla pizzeria. I carabinieri si precipitano sul posto e notano subito tre ragazzi che a piedi spingono uno scooter lungo via la marmora. I giovani quando vedono i militari scattano in una rapida fuga abbandonando lo scooter rubato poco prima al titolare della pizzeria. Uno dei ragazzi però viene bloccato. È un diciottenne di Vicenza che ora dovrà rispondere di furto aggravato in concorso. I carabinieri sono sulle tracce dei suoi due complici.